Buongiorno, a parte la mia capiglia che era un po' strana, negli scorsi giorni sono arrivati un pochino di pacchi, tra cui questa qua che adesso vi mostro. Firestick TV L'ho presa non in 4K ma in HD e basta perché serviva per la camera e per chi non la conoscesse è questa chiavetta che si infila dentro l'HDMI e dovrebbe rendere smart una tv che non è smart ed è questa chiavettina, in confezione ti danno un adattatore per chi non ce l'ha e il telecomando. che è questo qua e basta. E poi il cavo e istruzioni varie ma chi le legge più le istruzioni. Poi quest'altro pacchettino che dovrebbe essere un pacchettino un po' strano che è questo pacchettino che adesso aspettate che leggo un attimo la chiavetta. Ah ecco, questo qua è un pacchettino un po' strano, sono i Crave, ovviamente sono dei miei seriali preferiti ed erano in offerta su Amazon ne ho presi. Ma negli scorsi giorni sono arrivati altri pacchettini che vi mostro. Tra cui questa cassa Bluetooth qua che vi svelo ho già aperto perché è troppo curioso che la sua caratteristica è che è minuscola. Cioè, in confronto alla mia mano la vedete, è piccolissima. Però si sente molto bene, l'ho provata in questi giorni e è un bel acquisto, non me ne pento. Poi questo pacco che non ho ancora aperto, che forse dovrebbe essere un pacco che però non è per me, ma è per mio padre. Adesso aspettate che prendo le forbici. che è un mini ventilatore per la macchina che va ad accendisigari però è un ventilatore che è doppio, quindi per due persone. Tu lo metti in centrale del cruscotto e lo giri in base a come lo vuoi il passeggero. che è questa roba qua, vedi, è questo ventilatore del cruscottolino, non è neanche troppo grande quindi va bene. In confezione troviamo questi cosi di gomma piuma con colla sopra per appiccicarli al cruscotto e il ventilatore. che si può regolare come si vuole. Così, così, poi si può girare, così, 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 così. Si può girare come vuoi a 360 gradi. Quindi un bel acquisto e niente, devo dire che non me ne pento. E grazie per aver visto l'unboxing, se vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale. Grazie a tutti.